Come va lì fuori che state divertendo? Perché il nostro desiderio è che alla fine di questo concerto ognuno di voi vada a casa con un sorriso parte da qui, fa tutto il giro e arriva da questa parte Al di là delle preoccupazioni, dei problemi che qualcuno di voi può avere in questo momento voglio che lasciate tutti i pensieri per un'oretta e mezza, due ore fuori dalla porta e voglio che vi concentriate sul momento perché a volte pensiamo troppo, pensiamo troppo al futuro e non ci concentriamo su quello che stiamo vivendo al momento e spero che insomma questo concerto vi ricarichi un po' le batterie perché non è facile però bastanti Layers of time 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 Grazie. 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 Grazie.